Un'installazione solidale per percorrere con le sue luci colorate i confini regionali e nazionali varcare le Alpi per raggiungere la Francia e portare lì il messaggio di solidarietà del fuoco buono della Puglia quello che arderà la sera del 16 gennaio quando si rinnoverà uno dei riti più attesi, quello dell'accensione della Focara. In attesa a Novoli ad essere illuminata è stata una gigantesca torre di luminarie una riproduzione della Tour Eiffel alta 27 metri per rivolgere con le sue luci da Piazza Regina Margherita uno sguardo alla Francia a Parigi colpita nei giorni scorsi dalla tragedia di Charlie Hebdo. Non possiamo rimanere indifferenti a ciò che è successo in Francia proprio per questo abbiamo deciso di mettere questo manifesto, porre questo manifesto sulla torre questo per dire che siamo vicini a tutti i francesi. Un messaggio di pace e speranza che insieme alla mostra di installazioni dello scultore greco Yannis Kunelis a cui è stato affidato l'allestimento di quest'anno della Focara fa da prologo all'evento più atteso dei tre giorni di festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate l'accensione del falò più grande del mondo diventato ormai un importantissimo richiamo turistico. Lo stato d'animo è sempre il solito, c'è una forte tensione, una forte emozione aspettiamo questo momento, è un momento magico per il Salento, per la Puglia si accende questo grande faro, il faro dell'inverno salentino che illuminerà ancora una volta i percorsi del turismo destagionalizzato.